eravamo vicini di casa quando lei è nata io già avevo cinque mesi e l'oggio che eravamo lì tutti i giorni o di mattina o di sera si lavorava in campagna si lavorava assieme cioè lavorava il terreno andava dal terreno su e ci siamo cresciuti assieme finché sono andato a farci visita ti ha dato un vaccino ci siamo fidanzati e ho dovuto partire per la guerra la seconda guerra mondiale è stato prigioniero tutto insieme sette anni e mezzo mi ha aspettato c'erano le mie sorelle che ci signore questi voci lo aspettai e ne rispettiamo tanto e noi ci siamo rispettandolo è presto anno che sono venuto dalla guerra e noi siamo sposati perché mi volevamo bene come noi mi diceva la canzone la posso dire non c'è nessuno noi l'abbiamo tirata benissimo il segreto del nostro amore è la famiglia e ne volevo bene personalmente noi si pesticciava abbiamo fatto 100 due anni e mezzo lei ha fatto 102 giorni matrimonio più di 70 se stiamo assieme vuol dire che ancora ci porteriamo una cosa un'altra un'altra cosa 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 un